BINARIO 21 Corre veloce su quei binari il treno della morte. Viaggia nella notte fredda e oscura, per raggiungere una pianura. Porta con sé l'umanità, anche se questo forse Dio non lo sa. Sono donne, uomini, ragazze, vecchi, bambini. E sono tanti. Li vedi poi scomparire nel nulla. Riesci solo a sentire le urla allontanarsi portate via dal vento. Lo senti l'odore acre nell'aria, odora di morte. E se lì inerme, annullato, attendi, pensando solo di essere salvato. Non hai un nome, non sei più nessuno. Sei solo un numero che porti sul braccio, che mostrerai se da questo incubo uscirai. Non vedrai più esili corpi, scheletri, ossa, scarpe. Non vedrai più montagne di capelli dove scorgevi riccioli biondi di fanciulli inermi. Il martirio è finito. Adesso hai il tuo nome, ma non più la tua anima, rimasta lì, devastata, distrutta, annullata da una mente malata. Grazie a tutti.